E' stata presentata nel corso di una conferenza stampa itinerante la nuova isola pedonale sul corso Matteotti a Reggio Calabria, parte alta del lungomare Falcomatà. Nel corso di una passeggiata nella nuova zona interdetta al traffico veicolare, il sindaco Falcomatà, gli assessori Cama, Calabro e Brunetti, il consigliere, il presidente di Commissione Versace ed i rappresentanti delle attività commerciali dell'area hanno presentato caratteristiche e dettagli del nuovo progetto di mobilità che riguarda il centro cittadino, illustrando anche le novità relative ai servizi di mobilità pubblica, con il nuovo sistema dei parcheggi e le navette gratuiti a disposizione di cittadini e turisti. Sì, e proprio durante questa passeggiata abbiamo avuto modo di constatare quanto le cose siano cambiate in questi anni. Cinque anni fa il rapporto con i commercianti e gli esercenti non era iniziato nel migliore dei modi. Noi come amministrazione siamo stati costretti a chiuderli i gazebo per alcune problematiche di carattere amministrativo. Oggi ci ritroviamo invece a presentare un progetto proposto dagli stessi commercianti e gli stessi imprenditori che va nella direzione di realizzare sperimentalmente quest'isola pedonale. Quindi un cambio di passo radicale nei rapporti, nel dialogo e nella sinergia fra gli imprenditori, i commercianti, le associazioni del territorio e l'amministrazione comunale. Questo ci dice una cosa su tutte, che le cose si possono e si devono fare insieme è quando ognuno di noi che con le sue diverse responsabilità guarda alla crescita della città e al raggiungimento del bene comune, si trova a lavorare insieme agli altri, possono realizzarsi progetti come questo che fino a qualche anno fa sembravano davvero impensabili. Fin dal nostro insediamento abbiamo condiviso questo progetto che non parte ovviamente qualche mese addietro ma è datato nel tempo. Abbiamo avuto diverse consultazioni in sede di commissione, sesta commissione consigliare, in cui c'è stato un confronto sano e costruttivo, voglio sottolineare con tutti i consiglieri della maggioranza e di tutte le minoranze rappresentate in consiglio comunale. Ed è stato anche un bel momento perché con quello spirito costruttivo tutti hanno remato verso l'unica direzione che era quella appunto di portare avanti un progetto sano per la nostra città. Sì, la sperimentazione messa in atto è coerente alla programmazione del piano urbano sulla mobilità sostenibile e pertanto tende quindi alla pedonalizzazione del centro storico che con questa sperimentazione è graduale. Quindi abbiamo integrato per disincentivare proprio l'arrivo in città con l'automobile e abbiamo implementato e integrato con il sistema bus-navetta che quindi garantisce al cittadino di poter lungo tutto l'arco della giornata raggiungere sia il luogo di lavoro ma comunque tutti i poli e i nodi più importanti della città sono al servizio e sono fruibili quindi attraverso questo bus-navetta. Ancora un po' di pazienza ai nostri concittadini che invitiamo a viverla quest'area perché non sarà solo tavolini, ombrelloni e gazebo ma anche negli spazi liberi ci saranno ulteriori attività che potranno coinvolgere i ragazzi, i bambini o comunque persone adotte. Quindi l'invito è a vivere quest'area, magari criticarci anche in positivo per stimolarci nel fare meglio la prossima volta e magari avere un po' più di pazienza anche nel vedere questo cambiamento in bene della città. L'invito ulteriore che si fa è di utilizzare il meno possibile il mezzo proprio abbiamo messo a disposizione della cittadinanza queste navette chiamate proprio leva e porta non a caso che faranno da Spola dalla zona nord alla zona sud e permetteranno di non intasare il centro storico e far utilizzare appunto ai nostri concittadini i mezzi Atam parcheggiando fuori dall'area del centro storico. Da questa iniziativa una possibilità ulteriore cioè una base di partenza per crescere, per migliorare l'offerta turistica, per migliorare l'offerta commerciale e produttiva. Quindi la fiducia, il coraggio e soprattutto la speranza questo è emerso dalle parole di oggi dei nostri imprenditori ma soprattutto di una visione molto più ampia di un progetto che ancora deve crescere e soprattutto migliorare.